La Polizia Postale è molto presente sul territorio, in pochi lo sanno. Ci racconta un po' meglio? Noi tradizionalmente siamo una delle poche forze che si occupa di cybercrime a livello mondiale che ha degli uffici territoriali ben strutturati. Copriamo oggi con 18 centri operativi per la sicurezza cibernetica tutte le regioni e in più abbiamo 82 sezioni che vengono coordinate. Questo ci fa essere vicini alle persone e ci dà la possibilità di intercettare anche quei piccoli fenomeni che poi messi a sistema danno un quadro della criminalità cibernetica ben più ampio e che è sempre più una criminalità organizzata e trasnazionale. Nel suo intervento ha posto l'accento sull'importanza delle risorse umane, l'approccio che bisogna tenere per individuare delle competenze, standardizzarle sempre di più. Cosa stiamo facendo? Noi come Polizia di Stato stiamo cercando di avere un recolutamento mirato di quelle che sono le competenze più utili ad una missione così particolare. ancora riscontriamo tanti ragazzi che vogliono fare un passaggio, venire a lavorare con noi e poi ci poniamo al pari degli altri come degli incubatori di questa esperienza. Oggi abbiamo una bellissima esperienza che è un ITS al quale stiamo fornendo quasi la totalità del personale di centri. Quindi abbiamo dei ragazzi che di qui a due anni saranno formati da personale della postale sui temi della sicurezza cibernetica. Se questa esperienza, come credo, andrà bene verrà replicata sui 18 centri che offriranno quindi la possibilità di avere una formazione sul campo e di avere quindi persone già formate per essere direttamente plug and play attivabili in quelle che sono strutture di sicurezza e se riescono a venire da noi essere i nostri operatori del futuro. Si occupa la polizia postale di tematiche molto delicate. Una cosa che ha citato prima è la tutela dei minori. Come ci stiamo muovendo? Per noi è stata la nostra prima competenza. Nel 98 abbiamo avuto le prime attività investigative sotto copertura. Pochi sanno ma la polizia postale è una delle migliori polizie. Questo lo posso dire con vanto anche perché riguarda i miei uomini. So lo sforzo che fanno ogni giorno sul tema. Oggi noi approcciamo i ragazzi da due punti di vista diversi. Dal punto di vista della prevenzione siamo presenti con dei progetti strutturati che ogni anno portiamo avanti in cui incontriamo centinaia di migliaia di ragazzi che formiamo sulla cyber sicurezza, sui temi della gestione dei propri dati sensibili, della propria immagine, della loro proiezione social, del loro sviluppo e della loro personalità che oggi vede nei social un momento molto importante. Dall'altro continuiamo le attività di contrasto molto significative con delle capacità operative che il mondo ci invidia e soprattutto con la capacità di essere sotto copertura molto molto efficaci. E questa è la nostra missione principale. Tutelare le persone e farlo sulle persone più deboli, più significative, più vulnerabili è il nostro vanto, è la nostra missione principale. Un suo giudizio su CyberSec 2023. Il giudizio l'ho detto anche prima, è un evento importante, significativo. Devo dire che oggi era impressionante sia vedere la platea e sia vedere gli interventi. Altissima qualità, è importante avere momenti come questo perché poi diventano momenti in cui crescono relazioni, si instaurano relazioni e poi soprattutto si prendono spunti, idee per progetti e per poter far crescere quello che è l'ecosistema della cybersicurezza italiana. Questo è un momento importante, ho fatto i miei complimenti, ma non erano dovuti i miei complimenti.